Dagli scritti di Maria Valtorta, i quaderni, 20 marzo 1945, parla il Padre Santissimo. Vi pare dura la parola che dice la verità? Vorreste solo parole di misericordia? Potete dire di meritarla? Non è misericordia anche la voce severa che vi parla di castigo incitandovi a pentirvi? E vi pentite forse? Questo desiderio di sentire solo promesse di bontà, questa smania di avere da Dio solo carezze, è la deviazione della religione. Avete reso, epicureismo, anche questa sublime cosa che è la religione nel Dio vero. Da essa volete godimento, non volete dare ad essa sforzo. Volete adagiarvi in una comoda transazione fra il comandato e quello che a voi piace. E pretendereste che Dio venisse a questo adattamento? Un tempo fu detto quietismo questo vizio spirituale, ancora è detto dai dottori di spirito. Io sono più severo e lo chiamo epicureismo dello spirito. Dalla religione, da Dio, dalla sua parola vorreste avere solo quanto accarezza il senso, perché così siete discesi che anche lo spirito avete reso sensuale. Perciò volete dargli sensazioni e brividi tutti umani. Sembrate quei fogli di altre religioni che provocano con opportune cerimonie uno stato psichico o anormale per godere le false estasi dei loro paradisi. La grande, la più grande misericordia di Dio non la capite più. E chiamate durezza, spavento, minaccia, quello che amore, consiglio, invito al ravvedimento per avere grazie. Volete parole di misericordia? Dite che volete queste per avere forza di risorgere? Non mentite. Vi piacerebbero perché sono dolci, ma voi rimarreste amari come tossico al labbro di Dio. Le parole di misericordia, le visioni, tutte amore che da un anno vi sono elargite per ultima prova di elevazione delle vostre paganizzanti anime verso Dio servono a che? A molti per diletto, ad alcuni per rovina, ad una minoranza di una esiguità spaventosa per santificazione. Continua il destino del Cristo, di essere segno di contraddizione per molti. Oggi io parlo. Parlo per mostrare che è ancora infinita la mia misericordia se non vi seppellisce sotto una grandine di fuoco o colpevoli più dai sodomiti. È detto, tu castighi i traviati a poco per volta, li riprendi dei loro falli e li ammonisci affinché, messa da parte la malizia, credano in te. Questi periodi tremendi non sono andati aumentando piano piano. Vi ho lasciati percuotere tutto in una volta così infernalmente? No. Sono decenni e decenni che la punizione aumenta in forma indurata, dandovi di tanto in tanto un miracoloso aiuto che ve ne liberava e che voi usavate per preparare con il vostro stesso volere un flagello ancor più fiero. Mai siete tornati migliori. Malizia e miscredenza sono aumentate sempre, terrisori di Dio. E ora? Ora, se non sapessi come vi ho creati, io mi chiederei se avete un'anima. Perché le vostre opere sono da più di bruti? Vi spiace sentirvelo dire? Non agite in modo da meritarvi questa parola. Nella Sapienza si legge, detto verso i Cananei, «Gli antichi abitatori della tua terra santa tu li avevi in orrore perché le testabili davanti a te erano le opere loro che facevano con malie ed empi sacrifici. Uccidevano senza pietà i loro figlioli, mangiavano le viscere degli uomini e bevevano il sangue in mezzo alla tua sacra terra. Quei genitori carnefici di anima indifese tu li volesti distruggere». Non vi riconoscete, o generazioni di uomini d'ora, in questi vostri antenati? Io vi riconosco. Aumentati in malizia siete. Essa è divenuta più satanica, ma vi fa sempre di questa genia che è a me detestabile. Il satanismo si è diffuso divenendo quasi la religione degli stati. Grandi ed umili, colti e ignoranti, e fino nelle case dei ministri di Dio, si vuole e si crede sapere attraverso ammalie che hanno il sigillo sicuro, quello di Satana. «Non fate i sacrifici dei cananei, ma di peggiori ne fate. Immolate non le carni, ma le anime vostre e dei vostri simili, conculcando il diritto di Dio e la libertà dell'uomo. Perché siete giunti al punto di violentare con lo scherno o col comando le coscienze che sanno ancora rimanermi fedeli e le detronizzate dal trono della loro fede che a me le eleva corrompendo con dottrine maledette oppure le uccidete credendo con questo di spogliarle della fede? No, anzi, di incorruttibile fede con questo le vestite. Ma voi siete maledetti per la corruzione che seminate onde elevare a Dio i fedeli. E non vi riconoscete voi, generazioni di genitori, che senza pietà uccidete moralmente i vostri figli comunicando ad essi, innocenti, le vostre incredulità, le vostre sensualità, tutto il corredo del razionalismo e della bestialità che vi satura e che ora, 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 poi, questi figli, non più sorretti da nessuna colonna spirituale, voi finite di uccidere in quanto a loro resta, nella carne, permettendo che come bestie di lussuria di essa carne facciano mercato, consenzienti e felici a questo mercato che vi permette di pascervi e di godere con il sacrificio dei figli. Non esagera, no, la sapienza, a dirvi carnefici di anime indifese. Avete più cura della bestia che allevate per venderla e della pianta che coltivate per averne frutto di quanta ne avete dei vostri figli. Essi sono deboli e voi non li fortificate né dando loro la religione di Dio né quanto meno quella della onestà civica e dell'amore familiare. Padri, non siete più i tutori dei minorenni. Madri, siete idoli e non angeli per le vostre creature. Mancate allo scopo per cui io vi ho messi. Abdicate ai vostri doveri e ai vostri diritti. Mi fate ribrezzo. Siete degli idoli idolatri. Idoli perché senza spirito idolatri perché adorate ciò che tutto è meno che spirito. Avete adorato l'uomo. Avete permesso che si giungesse al culto del corpo. Si tornasse al culto del corpo come i pagani trovati da Cristo. O neopagani due volte colpevoli di paganesimo per esserlo e per esserlo dopo avere avuto la vera religione. Anche nei lutti, anche nelle gioie, che fate? Idolatria. Venerate, adorate ciò che è peribile. Non avete pensiero allo spirito e dal creatore dello stesso. E questo è un inganno per la vita umana in quanto gli uomini assecondando l'affetto o i tiranni danno alla pietra o al legno o alla tela dipinta il nome incomunicabile. Io sono, solo io sono Dio. Vi pare che io vi sferzi? E allora udite. Ne bastò avere sbagliato nella cognizione di Dio, ma vivendo nella grande guerra dell'ignoranza a sì grandi mali danno il nome di pace. Ora immuolano i figli, ora fanno tenebrosi sacrifici, ora passano la notte in orge infami. Non conservano pure né la vita né le nozze, ma l'uno uccide l'altro per invidia o lo contrista con adulteri. Tutto è sottosopra, sangue, omicidi, furti, frodi, corruzioni, infedeltà, tumulti, spergiuri, vessazione dei buoni, dimenticanza di Dio, contaminazione delle anime, inversione dei sessi, incostanza nei matrimoni, adulteri, impudicizie, perché l'abominevole culto degli idoli è causa, principio e fine ed ogni male. Essi o folleggiano in gozzoviglie o vaticinano il falso o vivono nell'ingiustizia e senza esitazione spergiurano perché fidando in idoli inanimati non temono alcun pregiudizio per i loro spergiuri. ma è la sapienza dettata un secolo avanti il Cristo o è scritto dettato per i momenti attuali? E vorreste parole di misericordia ancora? Non avete mai visto un popolo in fuga sotto una grandine grossissima? Fugge, fugge e viene colpito perché i grossi chicchi lo perseguitano da ogni dove. Se dovessi parlare per come meritate e parlare io Dio Padre sareste simili a questi percossi da innumerabile grandine. Parla la bontà e non capite parla la giustizia e la trovate ingiusta avete paura e non vi correggete stolti o delinquenti fogli o indemoniati ognuno si esamini ed è per questi che il figlio del padre fu mandato a morire? Veramente che se fosse possibile trovare errore in Dio si dovrebbe dire che tale sacrificio fu un errore perché è nullo per troppi il suo infinito valore. Un errore sì che testimonia della mia natura perché se non fossi amore o uomini che colpevoli come siete trovate che io non vi tratto con misericordia non vi avrei dato la redenzione. Sì che in verità se avessi dovuto agire come voi fate volendo il cento per cento e anche il mille per cento quando fate un poco di bene io non avrei mai dovuto farvi grazia perché le grazie tutte cominciando da quella del sangue effuso per voi vengono da voi trascurate derise volte a disgrazia. oggi parlo io per dirvi che ora come due anni fa il mio pensiero è sempre quello per dirvi che se taccio è perché so inutile parlare per dirvi che la parola è amore e il silenzio è amore che la severità è amore solo voi nell'amore sovrano che informa tutto quanto da Dio viene siete disamore ed è questa la vostra condanna iscriviti al nostro canale